SHOWTIME Art, non voglio allarmarti ma ci potrebbe essere l'uomo nero o uomini neri in questa casa? Ma che ti sei bevuto il cervello? Lo sapevo, anche nei weekend tu sei un normalissimo padre. Bene, 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 informatemi non appena arrivano le parche. Ah, sono qui! Cosa? Le parche sono qui e non me l'avete detto? Siamo dei termi, termi terminosi! Promemoria, promemoria per me, mutilarvi dopo la mia missione.